Ci sono divergenze su interpretazioni di norme, cose sembrano burocratiche, in realtà dovremmo parlare di cose tecniche, non c'è tempo e come abbiamo detto da tempo, credo che abbiamo bisogno di una dirigenza federale il prima possibile. In sostanza lo scontro è sulla data del voto? Non tanto sulla data, credo che ci sono le modalità, questa sospensione riguardo dei principi informatori, cosa che sono posizioni divergenti anche su quella interpretazione di applicazione o meno di questi principi, quando o se il governo li approverà, una discussione come ho detto che forse anche in questo momento della nostra stagione in cui ci sono iscrizioni e ci sono difficoltà, ci saremo evitati e speriamo che si possa parlarne il prima possibile di calcio e di ristrutturazione del nostro sistema. È un braccio di ferro che certo non fa bene al calcio italiano? Sì, come ho detto prima, sono cose burocratiche, legali, sicuramente non ci si addice, però purtroppo siamo infilati in questo tunnel e speriamo di uscire nel prima possibile.